Good morning Genova, siamo all'associazione La Rinascita, ci occupiamo di aiutare persone che hanno bisogno per un poco tempo, per lungo periodo, chi ha bambini, chi ha anziani, chi ha perso il lavoro, distribuiamo cibo, vestiti, mobili e raccogliamo offerte in cibo, vestiti, mobili. Praticamente tutto quello che a voi eccede, a noi può servire per aiutare qualcun altro che ha necessità. Potete trovare quello che facciamo sul sito cascinalarinascita.it, potete contattarci così ci venite a trovare, siamo a Quezzi, siamo in Viadaneo, così vi spieghiamo il nostro progetto, potete aiutare sul progetto, vi ringraziamo molto se sarete interessati per aiutarci. Ciao!